Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui su Call of Duty, altro video, altra corsa. Niente da dire, stessa modalità della volta scorsa, solo che io adesso ho creato la classe per eccellenza. Sì, la classe per eccellenza. Mitraietta più piccola cecchino che spara veloce. Cecchino lo sapesse, è impostazione, prendi, sì vabbè. Sì, tipo cattura la zona. Sì, esatto. In teoria devi cambiarla. E il misteriale è molto esperto. Oh, vincerà ogni volta. Esatto. L'ho messa io per cambiare, che palle, sempre la stessa facciamo. Cavolo, dovevo cambiare classe, sta qui. Sì, sempre che due palle, sembra lamentarsi sto qua. Tu ti lamenti ogni volta. Sì, vabbè. Scommetto che se ora perdiamo... Guardi legionale di polvere in camera scommetto che se ora perdiamo, dai la colpa alla classe. Sì. È così che funziona quello che giustica sai. Io adesso un mitraglione gigante che... Spara le rapiche da sei. Una mitraglietta può avere più rinculo di un mitragliatore, ragazzi. Sì, questa mitraglietta qui ho dovuto mettere il calcio. Ma guarda sta qua. Il rinculo... Il rinculo... Dai... Come? Ma gli ho sparato sul braccio. Ma come? Chi... 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 Vaffanculo... Non è qua detta l'ultima parola. E' su un morto anche io. Sono morto anche io. Però come danno ci siamo. Sì, ma quello che ho io. Spara le rapiche da sei. Indovina chi campera? Indovina chi campera? Mi sta rendendo. Sì, ma io sparo le rapiche. Io butto le rapiche da sei e con questa. Questa mitraglietta qui distrugge tutto. Ma dai, che cazzo. Ti nascondi in culo. Ti nascondi in culo. Ha cambiato zona. Cosa? Ah, mi ha ucciso quello dietro. Però stiamo andando benissimo, ragazzi. Io, no, no. Assolutamente. Sì, vabbè, anche io all'inizio andavo benissimo. Poi ci siamo persi. E l'hanno perso. Oh mio Dio, si è suicidato quel bot. C'era un bot che si è buttato nel precipito. Ok, vaffanculo, l'avete detenuta voi questa qui. Dov'è? Appunto. Ma come? Ma che casamala cambiano ogni volta che la prendiamo noi? Bene, io ora c'ho l'abita speciale che moltiplica i punti. Vediamo quante volte muoio. In modo da vaffanculizzarla, sapete com'è. Sì, sì, vabbè. Appena, appena... Allora, lo spiego. Appena la tua vita vale qualcosa perché c'è un'abilità speciale. Appena ottieni l'abilità di qualsiasi coso. Eh no, eh no. Sto andando bene. Di qualsiasi specialista. Sto andando bene. Mi sto tirando giù tutti. Sì, ok, ma... La cosa... Cioè, il gioco attivo, un sensore su di te, che tutti sanno dove sei e ti ammazzano. Infatti mi hanno ucciso con un'esplosiva adesso. No! Spariamo a caso. Sì, ok, ma basta, mi sono toccato il cazzo di sta cosa. Basta, cambiato punto. Oh, 96 a 30, eh. Cavolo. Cavolicchiolo. Muori. Oh mio Dio, io sto sopravvivendo in modo di avere conto. No, infatti. Sto sopravvivendo. Non sono sopravvissuto. Questa zona è nostra. Puttana. Ok. Eh, sì, abbiamo fatto un po' di compiare di fila. Ritare... Oh, ti ho salvato. Cosa è successo? Ho messo il c4, là. Sì, perché c'erano un po' stufetti, ragazzi. Cazzo, ma non fai in tempo perché? Cioè, ne ho ammazzi due. E carichi e ti uccidono mentre i carichi. È così che vuoi usare la trasciuti. No! Ah, cavolo. Sì, avete cosa ci vuole, forse? Mi fai vietta e fucile a pompa, in questo caso qui. Cerberus. Cerberami. Oh, mio Dio, era strappiano di genitera, non potevo fare niente. Oh, mio Dio, ma io c'ho il Cerberus, ora. Potrei comandare il Cerberus. Andare dentro e... Madonna, cara, quanto siete morti. Quanto siete morti! Sto entrando col Cerberus. Io sono uscito. Tanto perdi, comunque. Tanto ho cambiato zona, coglione. Ah, è peccato che c'è il Cerberus. Oh, lei. Cazzo è la zona. Io non so qual è la differenza tra alzarsi e albassarsi, che cambia poco niente. Fai più... Si è cambiato zona. Fai più minaccioso se ti alzi. Bro, ci sembra anche meno resistente. Che cazzo devo andare, perdi qua. Hai deciso il mio compagno, il volo. Si, in un altro programma. Devo la medicare per questo. Guarda il Cerberus. Che poi, qui, essendo tutto quanto, ha pensato su delle piattaforme. Il Cerberus non può muoversi bene. Quindi il coletto è un po' ostacorato. Questa zona non sarà più vostra. Dopo che sono passato io. Tu sei uno stronzo, lo sai? Lo so. E ci godo esserlo. No. Cioè, ma te non è sporco. No, sei stupido. Cavolo. 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 Stato andando troppo dentro con i punti. Non va bene. Si, ok, ma io devo correntare una volta nella zona, va bene? Una volta. State vincendo voi ora, non rompere il parco. Ma che cazzo vinci? No, guarda, 141, 140. Mi hanno fermato un secondo prima, grazie a Dio. Ma lei, vatti dal cap... Questi bot... Si, ma se devo entrare nella cosa che mi stanno bersagliando e c'è un bot ritardato che sta in mezzo alla porta, guarda caso. Come se fallout. Cioè, è il minimo incazzarsi. Ma ciao. Vuoi andare in tazzo di te nel frattempo? Cazzo che muoio. C'è una legione di bot pronti a combattere per la vita, per proteggere questo posto. E' anche cambiato. Come la... Ok. No, dai, adesso basta mi cercare. Che cazzo. Tablethier. Mi sta solo vindicando per tutto quello che mi ha fatto a Mortal Kombat. Scusami, sto spencitando. Eh, deve essere bravo a usarlo. Sei stato tu? Sì. Hai dovuto ricorrere le abilità speciali per uccidere me. E tu quante volte hai dovuto? Io non ho un'abilità speciale, questo è il punto. Sì. Eh, è una merda, non mi viene, non conta niente. Madre di Dio. Cosa è quello? È un po' tardi. Gavro, sei sti morto per l'esplosione. Sai quando ero, ti ho sparato? Tu lo sai. Io avevo ancora la dentale, c'era il mio cerbero, sì. Come 194, ma mi sono distratto un attimo. Ok, quindi. Il Chris è frustrato. Gioco di merda. È frustrato. Vediamo l'ultima killer. È infinito, non c'era da meno. Oh mio Dio, guarda che pro gamer che è sto qua. Guardalo. 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 Quei bot possono essere per gamer finché vogliono. Guarda, l'hai visto, Crobat? Ma restano dei bot di merda. Ok ragazzi, vediamo poi di quanto ho superato i Chris. Eh, va, fa muro. Doppio delle kill, meno morti. Più tempo e più difese. Ah, i Chris, dai, sto mettendo la mano sulla spalla. Deve ancora migliorare molto. Sarebbe bello riprendere morto il comodo, no? Ah, ma quello no, perché sennò ti umilo troppo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.